Le condizioni professionali delle donne in Europa, il loro ruolo e la partecipazione nelle organizzazioni internazionali sono stati al centro del convegno Donne, Lavoro e Economia, Nuova Etica nel Business, organizzato a Palazzo Lascaris dalla consulta femminile con la Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, FIDAPA. Nel corso del dibattito è stato sottolineato l'impegno di Consiglio e Giunta a lavorare per il raggiungimento concreto delle pari opportunità. Questo convegno fa parte dell'attività della consulta regionale femminile e l'opportunità che diamo alle nostre associazioni di poter parlare di argomenti importanti come quello di oggi. Un convegno organizzato dalla FIDAPA del distretto nord-ovest che parlerà di donne, lavoro ed economia. La donna come sale della vita oggi sarà protagonista anche del mondo del lavoro, del mondo della famiglia, nel mondo sociale. Questo convegno è stato voluto dal nostro distretto nord-ovest, io come pass presidente l'ho curato, l'ho messo su insomma, per proprio cercare di sintetizzare un pochino i problemi che ci sono adesso, donne, lavoro ed economia. E la nuova etica nel business, perché purtroppo il business si sta perdendo. Noi siamo un'associazione internazionale, in Italia siamo 12.000 socie e promuoviamo proprio queste cose nell'interesse delle donne.